Benvenuti in questa nuova contro-reassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euro-atlantisti. Iniziamo da questo video del canale ungherese, di un inviato di un giornalista indipendente dalla Federazione Russa oggi, secondo la prospettiva di Mosca, cioè dalla Crimea. Tommaso dalla Crimea, Tomasho Krimbo, il nome del canale e del reporter inviato, fate voi. Missili personici russi sulla più grande base di F-16 di produzione americana, i caccia, tanto famosi, dati alle AFU di Sirsky e all'aviazione ucraina in Ucraina, subito dopo l'arrivo dall'Olanda del primo lotto di caccia americani. Sto leggendo, sono fatto una sintesi di quello che di più saliente c'è in questo segmento del video di Tomasho. L'Ucraina ha ammesso la notizia diffusa al ministero della difesa russo e poi da Swissinfo dalla parte occidentale e si meraviglia anche lo stesso Tommaso dalla Crimea come questa notizia abbia avuto maggior peso paradossalmente nella stampa occidentale da Swissinfo poi a Reuters rispetto alla stampa russa o comunque filo russa. In Italia, in italiano ancora nulla. I Kinjalvni, i missili personici usati, i pugnali, questa è la traduzione di produzione russa, secondo Kiev non avrebbero provocato danni né alla pista, né alla struttura dell'aeroporto, né agli F-16 stessi, cosa poco credibile ovviamente, non si sa di più, non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma difficile, veramente difficile credere a una risposta russa così morbida. Dopo l'attacco con missili americani Atakams a lungo raggio o medio raggio e droni americani al deposito di petrolio, il più grande della Crimea, nella città vicino a Feodosia, questa è una cosa tanto raccontata e sottolineata ai principali medi italiani, NAFO, filo, ucraini ovviamente. Quindi un attacco, quello di Feodosia, di un giorno prima insieme ad altri attacchi nella guerra ibrida, come ad esempio all'attacco alla base dati della televisione pubblica Russia 1, Russia 1, YIN. I russi, l'armata russa e non rossa, è riuscita ad avanzare con successo e come commenta Mondinert è stata conservatrice Maggiara, in fila cadono le roccaforti ucraine nel Danies, quindi le linee difensiche costruite già a partire dal 14, più di 10 anni fa con l'aiuto occidentale. In barba a Minsk 1 e Minsk 2. I russi sono entrati ieri mattina nel centro e nelle periferie di Taretsk, città importantissima, snodo logistico militare ucraino nel basso Daniesk, quindi nella parte di Donbass meridionale. Poi sono cadute definitivamente sotto il controllo quindi del Kremlino, Jelane Pervoye e Stielmachivka. Dalla parte dell'esercito ucraino, il nuovo comandante della 72esima brigata motorizzata delle AFU di Sirsky, Oleksandr Okrimenko, ha detto ai media ucraini che non tutti i soldati ucraini sono stati evacuati con successo da Ugledar o Vulehdar, città conquistata qualche giorno fa sempre da Mosca. I russi su sei fronti in Ucraina del 91, ben in quattro, sono riusciti ad avanzare negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, secondo il bollettino settimanale di Konashenkov, del portavoce quindi del ministero di Belosov, della difesa del Kremlino. Nuove, ancora, bombe gravitazionali e termobariche sopra la città nei ritorni di Volchansk o Volchansk, che dir si voglia, nell'Oblast regione di Kharkivarkov, nel nord-est dell'Ucraina del 91. A riferire e a condividere diversi video né smentiti né confermati al ministero della difesa russo è Andrei Rudienko, reporter inviato di guerra, che ritrae nei suoi video condivisi su Telegram bombe e munizioni ODAV 1500, non paurose come le 9000 di cui ho parlato in questo canale qualche giorno fa, ma le stesse usate per la prima volta a settembre dall'esercito russo, cioè le ODAV 1500, vicino alla città di Kupiansk, che se non erro un po' più a sud rispetto a Kharkiv, se non ricordo male. Siamo sempre nella stessa zona comunque. Ringrazio Giancarlo per il nuovo abbonamento mensile a questa informazione complementare, che si preoccupa di tradurre dall'ungherese quasi sempre, da articoli maggiari quindi prospettive come quella russa, le più demonizzate comunque dalla stampa principale italiana euro-atlantista. Kiev sarebbe pronta a cedere territori rispetto ai confini del 91 in cambio dell'appartenenza, l'ingresso, essere membro della Nato, quel che rimane dell'Ucraina sotto il controllo delle forze armate di Sirsky. A riferirlo, questo scoop come direbbero i globalisti, il Financial Times di Londra. In Ucraina non ci saranno abbastanza, secondo queste fonti, abbastanza uomini, quindi soldati, armi, munizioni e sostegni finanziari occidentali del gruppo Rammstein, soprattutto per recuperare nei prossimi, nemmeno nei prossimi anni, i territori persi rispetto ai confini del 91, compresa la Crimea, sede della flotta del Mar Nero Russo a Sebastopoli. Zelensky ha cancellato la seconda conferenza di pace, tra virgolette, di novembre, come aveva anticipato lui stesso nell'organizzazione e la preparazione a giugno scorso in quel di Lucerna in Svizzera. A riferirlo, uno dei consigliere capo di Zelensky, che si chiama Daria Zarivna, proprio alla stampa ucraina di Kiev. Però, dice lei, ha detto lei, stanno facendo dei passi avanti nelle preparazioni di conferenze tematiche, tra virgolette, alla fine di ottobre si terranno in Canada e si parlerà soprattutto dei dettagli del piano della vittoria del presidente ucraino col mandato scaduto. Ovviamente i particolari non si conoscono perché questo piano non è stato ancora pubblicato, non sono fonti aperte, non si dice nulla di nuovo in questo senso. Dalla parte della corruzione dei politici ucraini, a casa di una parlamentare regionale del partito di Zelensky al servizio del popolo, sono stati ritrovati quasi 6 milioni di dollari, valore in valuta americana, in diverse valute straniere e nella rinia locale. Siamo nell'oblast di Chmelnitsky, lei, l'arrestata, Tetiana Krupa, era, ormai possiamo dirlo, capo del MSEC, cioè del Centro per i Servizi Sanitari, Medici, Sociali e quindi un esperto nella parte del terziario nel settore dei servizi in Ucraina. Anche il figlio è stato arrestato dalla SBU e dalla Finanza, faceva parte del Fondo Pensionistico Nazionale Ucraino, a scrivere e a riportarlo la testata della minoranza ungherese in Transcarpazia, Carpati i Gossu, cioè la parola vera, la verità dai Carpazzi. Ritrovati durante la perquisizione a casa della donna anche dei documenti, dei certificati medici falsati, falsi, proprio per chi ha cercato in cambio di denaro di corrompere i medici, le autorità politiche, anche con successo evidentemente, per sfuggire alla mobilitazione generale, anche forzata dei giovani maschi in età militare, neanche più tanto giovani. Il figlio della politica nascondeva denaro addirittura nel materasso, nel letto della sua camera. Un'altra parlamentare della Verovna Rada, questa volta quindi a livello nazionale del Parlamento di Kiev, ha proposto una proposta molto controversa. Nelle pause tra una lezione e l'altra, a scuola e nelle scuole pubbliche d'obbligo, vietate tutte le lingue delle minoranze etnico-linguistiche, quindi anche dell'ungherese o del rumeno o del polacco. Per esempio, lingua obbligatoria anche nelle pause, non solo negli orari delle lezioni, la lingua ucraina. Ovviamente, a proporlo la donna che avete visto in foto, Natalia Pipan. E questo non fa altro che ripeggiorare di nuovo le relazioni bilaterali, ad esempio con l'Ungheria. Governo Orban Fidesz, Cadenpe. L'Ungheria che ha bloccato, ha messo il veto ieri, sul nuovo pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina, prestiti, sostanzialmente prestiti, dalla parte di Strasburgo e Bruxelles, per 35 miliardi di euro. Ancora a scriverlo, Euronews, anche altre fonti come Bloomberg. Il governo ungherese, tramite il ministro Vorgo Miai, che avete visto in foto, il ministro delle finanze, vuole aspettare assolutamente l'esito delle elezioni americane. Come dice il capo del di Castero di Budapest, ci sono due soluzioni al conflitto. Una, la pace, e l'altra, la guerra. Lascio a voi immaginare chi è Trump e chi è Kamala Harris in questa dicotomia. Orban Victor, ieri sera ha parlato in conferenza stampa a Strasburgo. La situazione dell'Unione Europea è peggiore di gran lunga rispetto al 2011. Non devo spiegare il 2011 agli italiani, credo. A Strasburgo, il primo ministro ungherese, Presidente di turno del Consiglio Europeo, Semestre Maggiaro, ha presentato una proposta per ritrovare un patto per la concorrenza e la capacità competitiva delle aziende e delle economie dei 27 nel mondo, rispetto ai giganti come quello americano e cinese. I conflitti, dice Orban Victor, hanno portato il pericolo dell'escalation tanto famosa globalista, cioè l'allargamento del conflitto, anche e soprattutto nel vecchio continente, oltre che nel Medio Oriente. L'immigrazione di massa sta distruggendo l'area Schengen, quindi ritorno delle frontiere, delle dogane, tra i paesi membri della stessa area. Si critica tanto l'Ungheria. Per i visti anche ai russi e ai bielorussi non si dice nulla su chi fa entrare flussi irregolari. Orban proprio in questi minuti sta parlando al Parlamento Europeo di Strasburgo, il dibattito della plenaria come presidente di turno. Per chiudere, l'oppositore principale del partito TISO, in Ungheria Madior Peter, il secondo arrivato alle elezioni europee, si è presentato per la prima volta a Strasburgo come europarlamentare, ma non ha voluto, nella giornata di ieri, la serata di ieri, presentarsi a una conferenza stampa proprio preparata per lui, da parte di molti giornalisti europei. Dopo il fallimento delle proteste davanti alla televisione pubblica M1, MTWA, a Budapest, in Ungheria, di qualche giornata fa, di cui vi ho parlato, 3.000, 5.000 massimo persone, immagini di droni, molto esplicative, rispetto ai 100.000. Poi limite fissato per il successo dello stesso Polosco Peter, che vedete nella foto. L'europeista, comunque un oppositore di Orban, da sinistra nel Parlamento Ungherese, quindi l'opposizione arcobalenata, sostenuta sicuramente dalla guida democratica e neocon statunitense, ma anche da Bruxelles, da von der Leyen e gli altri. Grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio Rorsag.